Appalto approvato e inviato all'ufficio gare dell'Urega della Regione senza alcuna modifica. Monta la protesta ad Alcamo e Calatafimi per il futuro attorno alla gestione del servizio della raccolta smaltimento di rifiuti. In questi due paesi rischiano seriamente di saltare almeno una cinquantina di posti di lavoro, 40 ad Alcamo e la restante parte nella vicina Calatafimi. Preoccupazioni fondate dal fatto che i rispettivi comuni hanno mandato in gara un piano di gestione che prevede fortissimi tagli economici. Solo ad Alcamo ben 1,4 milioni di euro all'anno rispetto all'attuale costo annuale. Le occupazioni che i sindacati avevano già espresso qualche settimana fa alle due amministrazioni comunali strappando l'impegno che l'impalcatura del bando si sarebbe rivista. Ed invece alla fine ieri mattina è stato approvato tutto in fretta e furia senza variare di una virgola il contestato piano. Questo a causa di un'accelerazione richiesta dalla stessa SRR Trapani Nord, società di cui fanno parte per l'appunto Alcamo e Calatafimi insieme ad altri comuni della provincia per evitare il rischio di un commissariamento da parte della regione. Una situazione che ha fatto esplodere la rabbia degli operai che attraverso le loro rappresentanze sindacali unitarie hanno deciso di indire per martedì e sabato della prossima settimana delle assemblee come quella di ieri, motivo per cui si prevedono contrazioni al servizio di raccolta della spazzatura porta a porta. Già ieri ad Alcamo molte zone del centro storico e della periferia sono rimaste scoperte dal servizio e i sacchetti non sono stati raccolti. Per di più è stata inviata una lettera di raffreddamento in cui si preannunciano possibili scioperi con veri e propri blocchi del servizio in un prossimo futuro. Ieri i lavoratori si sono riuniti ad Elice sotto la sede della SRR Trapani Nord. I sindacati hanno chiesto un incontro con i vertici della società e con gli amministratori locali. Le preoccupazioni restano purtroppo riguardo le possibili perdite di posti di lavoro, afferma il segretario della Cigelle di Alcamo, Giuseppe Favara. Abbiamo sollecitato l'istituzione di un tavolo permanente in prefettura a Trapani in modo da poter ragionare rispetto a cosa si può fare con la ditta che vincerà l'appalto della raccolta rifiuti. Chiederemo delle clausole ben precise, aggiunge Favara. È un impegno dei sindaci a farsi garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. I lavoratori e le rappresentanze sindacali unitarie, aggiunge Antonino Scurto, RSU del cantiere di Alcamo della Cisle, non sono più disposti ad attendere alle decisioni dalle stanze dei bottoni. Per questo abbiamo deciso di convocare le assemblee e di inviare la lettera di raffreddamento. Più ottimista l'assessore all'ambiente del comune di Alcamo, Roberto Russo, il dialogo tra amministratori, SRR e sindacati continua, precisa, e lo scambio di informazioni ridimensiona le preoccupazioni che esasperano i lavoratori.